Roberto Cammarelle nasce a Milano il 30 luglio 1980 e si appassiona alla box all'età di 11 anni. Ottiene il suo primo titolo italiano come Under 16 nel 1995, nella categoria Pesi Massimi. Nel 2000 fa parte delle Fiamme Oro, la squadra sportiva della Polizia di Stato. Gareggia nel 2002 nella categoria Super Massimi. Vince consecutivamente i campionati italiani Elite dal 2000 al 2007, dei quali i primi due disputati nella categoria dei Massimi. Nel 2012 riconquista il titolo italiano nella categoria Super Massimi, portando così a nove le canottiere scudate. Nel 2002 raggiunge la finale dei campionati europei di Perm, in Russia. Conquistando l'argento, alle Olimpiadi di Atene 2004 vince il bronzo nella categoria Super Massimi. Partecipa alle Olimpiadi di Pechino 2008, dove ottiene la medaglia d'oro nella categoria Piu 91 kg. In questo modo, a vent'anni dal grande successo di Giovanni Parisi, l'Italia torna a vincere una medaglia d'oro olimpica nel pugilato. Il 12 agosto 2012, alle Olimpiadi di Londra, ottiene la medaglia d'argento nei Pesi Super Massimi, Piu 91, perdendo a seguito di un verdetto contestato. Alla sua prima partecipazione, vince il bronzo ai mondiali di Nia Yang, Cina, nel 2005. Conquista l'oro ai campionati mondiali di Chicago, 2007, ed il 12 settembre 2009 si riconferma campione del mondo dei Super Massimi, Piu 91 kg. Conquista la medaglia d'oro ai giochi del Mediterraneo di Armeria, nel 2005. Nel 2009 vince la medaglia d'oro ai giochi del Mediterraneo di Pescara. Si ripete quattro anni dopo a Mersin, in Turchia, portando a tre le medaglie d'oro ai giochi del Mediterraneo. Dal 2004 al 2007, Camarelle vince consecutivamente quattro campionati della comunità europea.